ben ritrovati di nuovo su reviewing you oggi vado a recensire un altro prodotto per il trekking per il campeggio usciranno diverse recensioni su questo canale di trekking di campeggio di prodotti acquistati su amazon quindi vi consiglio di iscrivervi innanzitutto al canale e adesso vi faccio vedere appunto questo prodotto davvero valido secondo me acquistato all'incirca 52 euro link in descrizione è un materasso della thermarest noto azienda irlandese un sinonimo di qualità rispetto ad altri materassini che pesano tanto e proteggono diciamo poco dalla dispersione di calore è un materassino studiato appositamente nei materiali nella forma come vedete anche la struttura con queste diciamo celle che permette una minor perdita di calore abbiamo come vedete modello z light sol che si differenzia dallo z light vi lascio comunque entrambi link in descrizione per il fatto che questo è un modello nuovo successivo e ha un colore giallo e argento che permette una maggior resistenza alla perdita di calore infatti questo è un air value 2 mentre quello di prima è un air value 1.7 vi lascio comunque ripeto i link potete poi scegliere voi qual è acquistare però io ho scelto questo perché aveva come vedete 2.0 e questo valore qua che diciamo più alto e permette di usarlo in estate in primavera e quindi protegge bene dalle perdita di calore il lato ovviamente argentato permette di riflettere il calore quindi è studiato anche per questo è davvero un prodotto ottimale secondo me rispetto a quelli sul mercato per il peso soprattutto di 410 grammi veramente leggero e come vedete a due centimetri di spessore adesso magari andiamo ad aprirlo insieme così lo vediamo qui da vicino e vi dico già che comunque io l'ho acquistato da abbinare insieme anche un materassino super leggero gonfiabile di 5 centimetri di spessore così ci metterò questo sotto e poi il materassino gonfiabile sopra e poi il sacca pelo quindi avrò una doppia protezione dalla dispersione di calore termico e quindi sarà un 2.0 di arvaldo che questo più 1.6 se non erro che è l'altro materassino tirano vi lascio comunque anche magari il link dell'altra video recensione del materassino gonfiabile così che se nel caso voleste fare una coppiata vincente come la mia potrete appunto acquistarlo e fare come me andiamo a vedere insieme come vedete arriva all'interno di questa plastica trasparente devo dire che mi ha stupito il fatto del del peso perché non mi aspettavo un peso così leggero come vi dicevo prima e questo è un punto veramente importante per chi va a passeggiare che si vuole portare poco peso stavo facendo cadere tutto tutto sotto controllo comunque come vedete ci sono queste celle si piega fisarmonica e è veramente morbido secondo me quindi anche se uno non ci va ad abbinare un materassino gonfiabile secondo me non dovrebbe dormire neanche male però devo ancora testarlo si piega fisarmonica ma questo l'ho già detto e la parte dietro è un giallo diciamo zafferano io comunque andrò a metterlo al di sotto lo zaino da trekking e andrò a legarlo diciamo con della corda quindi da metterlo sotto adesso vi faccio vedere magari come appare sul pavimento quindi nella sua lunghezza ecco come appare una volta aperto posizionato per terra devo dire che mi sono prima sdraiato e non è neanche così scomodo quindi ci si potrebbe stare anche soltanto con questo materassino e saccappello sopra e le dimensioni d'aperto sono di 182.9 x 50.8 x 2 cm di spessore ricordatevi la parte ovviamente argentata che deve stare al di sopra quindi dove vi sdraiate questo perché appunto riflette il vostro calore ed evita la dispersione del vostro calore corporeo quindi posizionato in questo modo ovviamente adesso ci sono tutte le pieghe perché non sono sdraiato al di sopra ma ripeto è un prodotto che secondo me vale la pena spendere questi soldi un po' di più ma è un sinonimo di qualità e comunque ne va comunque a beneficio della vostra qualità del sonno non avrete freddo sarete comodi e comunque a differenza di tutti gli altri materassini è veramente leggero link in descrizione se avete domande non esitate a porle